Ben ritrovati, è venuto il momento di parlare un po' dei grandi fotografi, i libri attraverso i quali non solo c'è il piacere di sfogliare le loro immagini, ma soprattutto possiamo apprendere i loro segreti, i loro trucchi, il loro modo di visualizzare la realtà. Kenna, Sexton, Salgado, guarda un po', Genesi e perché no, Ansel Adams, tantissime opere, ma Fulvio Reuter e poi Vittorio Saella, qui sotto chi c'è? Gabriele Basilico, insomma sarà un modo per sfogliarli un po' insieme e raccontarvi il mio modo di osservare questi libri e di imparare, apprendere dal loro modo di scattare e poi sono senza dubbio delle opere veramente molto belle che vale anche la pena conoscere, magari ve le illustro e se vi viene voglia, perché no? Ve le andate anche a comprare perché un libro è sempre un libro, non solo Vittorio Sella di cui vi ho parlato ma anche tanti libri di montagna perché sono quelli che ci insegnano non solo qualcosa sulla montagna ma ci fanno vedere magari da una prospettiva diversa, le montagne ci insegnano quelle location, quei posti oppure come in questo caso la fotografia con un formato grande, medio, insomma sono quelli che ci aiutano poi e alimentano la nostra passione per la montagna e quindi per la fotografia. Vi aspetto e possono essere comunque sempre spunti utili perché sono libri e questi non dovrebbero mai mancare. E visto che stiamo parlando di fotografie stampate, beh in questa serie, magari verso la fine per non peccare di presunzione, ci saranno anche le stampe, quelle delle mie immagini che saranno lo spunto per parlare di come elaborare il file, delle carte tantissime che ci vengono messe a disposizione dalla moderna tecnologia, quindi dalla stampa digitale, il modo di montarle, la scelta del formato ma soprattutto diciamo quello che è il file, dallo scatto alla stampa finale e quindi carte che riescono a mettere in evidenza, che so, i contrasti, quindi carte brillanti e carte che hanno una buona capacità di dettaglio e definizione, a carte a finitura matta in fibra di cotone che invece prediligono altri risultati fotografici, ma anche carte molto semplici come potrebbe essere per esempio una delle più basiche che è l'archival mat della Epson, quindi carte economiche che però con determinati soggetti, con determinate stampe, ma soprattutto con una ottimale preparazione del file, sono in grado di dare dei risultati davvero interessanti. Una cosa che mi piace molto ecco del mio mestiere è proprio la possibilità che la tecnologia digitale di stampa ci ha regalato mettendoci a disposizione tantissime varietà di finiture, ve l'ho detto sia per la tonalità che per la grammatura, la finitura superficiale, il look fotografico che poi viene determinato da queste media, da queste carte. L'intonazione, quella naturale, quelle bianche neutre, quelle un pochettino più calde, quelle più fredde ed ovviamente ciascuna si presta per un tipo di soggetto e quello che un po' andremo a vedere sempre e senza mai dimenticare che alla base deve esserci la preparazione del file, quindi un bilanciamento del file che nasce addirittura dal progetto fotografico. Ci sono delle carte che poi entrano proprio nel nostro nel nostro cuore e quindi ci piacciono più di altre e senza dubbio su quelle poi si va anche a finalizzare la stampa che deve avere una forza nella nella media diciamo del grigio piuttosto che nel contrasto del bianco e del nero ma anche le carte che invece sono ideali per il colore sebbene qui devo ammettere che la mia conoscenza è meno approfondita di quello che insomma posso vantare ormai con parecchi decenni di lavorazione sul bianco e nero. L'invito per questa nuova serie è intanto buona luce a tutti come sempre.